Dopo più di 40 giorni di stop, finalmente i pescheri ci tornano in mare per rifornire i mercati, la filiera, la ristorazione di pesce fresco. Qualcuno dice che il pesce azzurro non c'è più. Sì, non c'è più, c'è sardone, sarda, non ci sono moltissime varietà come gli sgombri, poi aggiornate, le puoi prendere o no. Adesso, in questo momento, nella prima uscita non li hanno presi, però li aspettiamo insomma. Che pesce c'è stato qui al mercato quest'oggi? Stavattina soglio, le canocchie, triglie, un po' di tutto c'è stato. Insomma, si ricomincia? Sì, speriamo in bene poi. La piccola pesca va bene a Rimini? La piccola pesca sì, va abbastanza bene, devo dire, anche perché teniamo conto che guardiamo più alla qualità che all'abbondanza per la piccola pesca. Presidente, finalmente è tornata la pesca, allora via libera, grigliate a chilometro zero, a fritture e insomma così via. Sì, infatti la gente è entusiasta. Oggi c'è stato un fuggi-fuggi generale, un corri al mercato per venire a vedere le cose che ci sono, per acquistare i primi prodotti proprio del nostro mare qui di Rimini. Sono tutti molto contenti perché riescono a sostituire il solito pranzo di carne con un bel pranzetto di pesce, ecco. Quindi riparte la filiera ma anche la ristorazione, insomma tutto il resto. Sì, anche la ristorazione oggi si è vista al mercato coperto, ha fatto dei grossi acquisti e le aspettiamo anche nei prossimi giorni perché comunque il pesce sembra proprio che ci sia e siamo molto contenti, insomma, di questa via o inizio di pesca, ecco. Grazie.